Il processo per il caso Open Arms è cominciato con Matteo Salvini sul banco degli imputati. Tra i test dell'accusa il medico Vincenzo Asaro, che salì sulla nave umanitaria, i migranti erano in condizioni gravi, i migranti a bordo della Open Arms avevano urgente bisogno di cure mediche per via delle loro condizioni di salute. A dirlo è stato questa mattina il medico ed ex direttore sanitario dell'ospedale di Licata, Vincenzo Asaro, che salì sulla nave della ONG spagnola nell'agosto del 2019. 2009. Asaro ha deposto durante il processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio a carico di Matteo Salvini, accusato di aver illegittimamente negato lo sbarco ai profughi. Oggi, nell'aula bunker di Palermo, era presente anche il leader della Lega insieme all'avvocata e senatrice del Carroccio Giulia Buongiorno. Erano in condizioni di salute mediocre e il protrarsi della loro permanenza a bordo della Open Arms rappresentava un fattore di rischio elevato del peggioramento della salute psicofisica dei migranti. Nel senso di un aggravamento di malattie presenti o dell'insorgenza di nuove ha spiegato Asaro le condizioni dei migranti rappresentavano un rischio per l'incolumità degli stessi e del personale di navigazione. Poi il medico ha raccontato, li trovamo sul ponte, erano più di un centinaio e le donne erano al centro. Si riparavano sotto una tettoia. C'erano due bagni alla turca piccoli e una cambusa, i migranti dormivano sdraiati sul ponte e non c'erano alternative. Non avevano saponi o detergenti e usavano l'acqua di mare che veniva desalinizzata. Quando facemmo il sopralluogo c'era una catasta di rifiuti. E ancora sulle condizioni di salute, erano in condizioni molto precarie, è verosimile che non avessero neppure modo di cambiarsi gli indumenti intimi. Cercavano di avvicinarsi a me per raccontarmi i loro problemi di salute. Asaro ha detto chiaramente, stiamo parlando di persone in condizioni di grave disagio. Provammo un sentimento di grande tristezza vedendoli. Erano in una condizione di mancanza di tutto.